Quest'oggi parliamo di ATT e NTATI, vediamo se così evitiamo qualche problema, ma mi piace molto l'odore degli strike di prima mattina, profuma come di vittoria. L'Irlanda del Nord non è mai stata un luogo di pace, come dicono a Belfast, se vi chiedono di che religione siete meglio rispondere buddisti. Ma bando alle ciance, con oggi iniziamo il primo video dell'Aprile Patreon, un evento che stranamente prende luogo su Patreon dove i miei mecenati hanno scelto per me quattro video da trattare sul canale. E come argomento iniziale diciamo che oggi non andiamo decisamente per il leggero. Già Matteo e Christian mi hanno chiesto di parlare del conflitto nord-irlandese. Le domande sono state molte, ma le domande di base in realtà sarebbero queste due. Perché l'Irlanda è divisa in due parti e perché soprattutto c'è questo divario, questo conflitto tra Nord e Sud e soprattutto perché l'Ira? Per rispondere a queste domande bisogna tornare indietro nel tempo di moltissimi secoli. Quindi allacciamoci le cinture e partiamo. Ma prima di farlo, Dömer Miner Heller, volevo soltanto dirvi che il video odierno è stato gentilmente sponsorizzato da CyberGhost VPN, un servizio che vi permette di navigare sul web in completa sicurezza. Oltre 36 milioni di utenti hanno già scelto di criptare il traffico dati e mascherare l'IP su internet con CyberGhost VPN. Il suo servizio, certificato come uno dei migliori sul mercato con 5 stelle su Trustpilot è un modo utilissimo non solo per proteggersi da connessioni pubbliche poco sicure, ma anche per aggirare contenuti illimitati a livello regionale. CyberGhost VPN non tiene traccia dei registri delle nostre attività e questo garantisce l'anonimato di navigazione. Si potrà ad esempio accedere a tutti i contenuti extra di oltre 38 librerie streaming, tra cui Netflix America o Netflix Germania o anche tutti quei video su YouTube che solitamente in Italia sono bloccati. Per esempio, io che guardo quasi tutti i giorni la tv nazionale islandese per tenermi in allenamento con la lingua, senza CyberGhost VPN la sera starei fisso a guardare il muro. Disponibile sulle principali piattaforme e con 1,95€ di abbonamento mensile più 4 mesi gratis grazie all'84% di sconto, CyberGhost VPN vi permette di collegare fino a 7 dispositivi alla volta, il tutto garantito da un rimborso dei primi 45 giorni di abbonamento e un'assistenza clienti di 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La storia dell'Irlanda è una delle più complesse e variegate di sempre. È la storia di un conflitto secolare tra due centri di potere, quello inglese e quello irlandese. Nel corso del tempo, alle popolazioni autoctone di cultura e lingua celtica, completamente differenti da quelle di ceppo germanico della Gran Bretagna, si aggiunsero varie ondate migratorie, iniziate intorno al 1170 con la penetrazione dei normanni a partire dal Galles, già occupato nel XIII secolo. All'epoca di Enrico VIII, il primo sovrano a freggiarsi del titolo di re d'Irlanda e poi successivamente, tra il 16 e il 17, gli afflussi dei contadini inglesi e scozzesi di religione protestante, nella porzione settentrionale dell'Irlanda, fu talmente elevato da assumere i contorni di una colonizzazione programmata, la cosiddetta plantation. La suddivisione ai protestanti cattolici fu uno dei primi motivi di astio. Con la riforma protestante di Enrico VIII alla metà del 1500, in tutto il paese la persecuzione e l'applicazione di pene capitali a danno dei cattolici sarebbero perdurate fino agli inizi del XIX secolo. L'arrivo massiccio dei protestanti inglesi, ma anche degli scozzesi, fu un evento traumatico. I monaci irlandesi reagirono più o meno così. Dannati scozzesi! La penetrazione inglese coincise con l'esproprio delle terre e dei possedimenti degli irlandesi di fede cattolica, i quali finirono, nella maggior parte dei casi, obbligati a rifugiarsi nell'entroterra. Il risultato di questo processo fu subito evidente nel nord del paese, dove la maggior parte della popolazione urbana finì per coincidere con quella protestante, oltre il 90%, a scapito di quella cattolica irlandese che venne pressata nelle province rurali a bassa densità demografica. Le pressioni e le frustrazioni sociali tra le due parti, inglesi e irlandesi, raggiunsero nella provincia dell'Alster un primo punto di intollerabile ostilità in una rivolta generale del 1641, rivolta affogata in un bagno di sangue da Oliver Cromwell a favore della corona inglese di casa Stuart. La rivolta inglese decretò l'inizio di un percorso sempre più discriminatorio. Paradossalmente, i primi a cercare un'autonomia per l'isola, più che altro per difendere i propri interessi economici, furono gli irlandesi protestanti, che ottennero in un primo momento diverse concessioni da Londra, tra cui un proprio parlamento dedicato. Tuttavia, i timori inglesi, generati dalle nuove rivolte nel 1798, spinsero Londra a revocare il barlume di autonomia accordato in precedenza. A questo si aggiunse la formazione simbolica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, che pose fine a ogni velleità autonomista con il cosiddetto atto di unione del 1800. Di lì in avanti ci sarebbe stato un capovolgimento di fronte, a voler mettere i bastoni tra le ruote. Agli inglesi non furono più i protestanti come uno potrebbe pensare, che scelsero comunque di far buon viso al cattivo gioco con la corona inglese, ma i cattolici che scelsero di abbracciare la causa nazionalista. Padre del patriottismo irlandese di matrice cattolica fu Daniel O'Connell, che nel 1823 fondò la Catholic Association, organizzazione che mirava l'indipendenza col ricorso a mezzi pacifici. O'Connell fu ben presto estromesso dalla scena politica, ma le sue idee avevano ormai fatto presa sulla popolazione. A far cancellare i buoni propositi pacifisti di O'Connell ci fu però uno spiacevole inconveniente. Mezzo secolo di carestie gravissime causate da un microorganismo maledettamente suddolo, questo cosetto qui. E questo cosa qui colpiva le patate, rendendole immangiabili. Risultato? Un milione di persone morte per questa fame, per questa carestia, e milioni di sfollati che dall'Irlanda andavano verso l'America, poi verso il Canada, poi verso l'Australia, poi verso la Nuova Zara, insomma dappertutto. La sostanziale indifferenza degli inglesi di fronte a un dramma così grave acutizzò i sentimenti nazionalisti indipendentisti, spingendo alcuni irlandesi a convincersi addirittura che dietro la rovina dei raccolti ci fosse la stessa corona britannica. Come conseguenza delle tensioni e dell'aumentare dei tumulti, alla metà del XIX secolo sull'isola sorse un'organizzazione eversiva e segreta volta a ottenere l'indipendenza dai britannici, la fratellanza repubblicana irlandese che, come il nome stesso evocava, opponeva alla monarchia la Repubblica. Il governo britannico guidato dal liberale William Gladstone, resosi conto dell'impossibilità di placare gli animi, scelse di procedere con una mezza misura, elargendo nel 1870 l'autonomia parziale politica all'isola, attraverso l'iniziativa dell'Home Rule, una concessione che garantiva simbolicamente un Parlamento locale ma che non garantiva l'indipendenza dalla corona britannica. I primi a essere contrari a questa misura furono anzitutto gli irlandesi protestanti, quelli più fedeli alla corona e che, per la prima volta, cominciarono a chiamarsi unionisti in quanto contrari all'autogoverno e favorevoli al mantenimento dell'Unione del Regno in difesa dei propri interessi economici e commerciali. Gli unionisti temevano un'Irlanda unificata, perché, molto semplice, finire in un paese a maggioranza cattolica avrebbe significato per loro l'inizio della fine dei privilegi, la fine della festa. E così l'Home Rule, non avendo né arte né parte, scontentò tutti. Cioè, ci si misero proprio d'impegno. Gli unionisti, che volevano mantenimento dello status quo, ma anche e soprattutto i nazionalisti indipendentisti, che si sentirono ingannati da quel progetto, specialmente quando, a partire dai primi del Novecento, le grandi colonie come Canada, Australia e Nuova Zelanda cominciarono a godere di una maggiore autonomia politica grazie alla denominazione di Dominion. La situazione si infiammò poi in pieno conflitto mondiale, quando, nel lunedì di Pasqua dell'aprile 1916, un gruppo di circa 1.500 nazionalisti irlandesi, guidati da James Connolly, organizzò a Dublino una sommossa popolare, proclamando la nascita della Repubblica d'Irlanda. La rivolta fu duramente repressa nel sangue dai militari inglesi e alla fine furono i britannici ad avere la meglio. Quel che però gli inglesi non avevano previsto era che questo grave episodio avrebbe regalato un enorme sostegno popolare alla causa indipendentista irlandese, che all'elezione del 1918 registrò l'ascesa del partito nazionalista indipendentista che è lo Sinn Fein, letteralmente solo noi. Lo Sinn Fein passò da sette seggi a 1973, portando al tracollo dei sostenitori dell'home rule e quindi di tutti coloro che volevano una linea di morbida autonomia passiva dal governo londinese. Il popolo irlandese, fino ad allora rimasto per lo più a guardare passivamente, cominciò finalmente ad alzare la testa, lanciando un segnale politico inequivocabile. I parlamentari nazionalisti del Sinn Fein rifiutarono di sedere nel Parlamento di Londra e crearono l'Assemblea Nazionale Irlandese, la quale proclamò unilateralmente l'indipendenza dell'isola. Il Sinn Fein fu la linfa vitale, il motore della rivoluzione politica irlandese, che all'aumentare delle repressioni inglesi nel biennio 19-20, anzi 21, iniziò a organizzarsi militarmente per rispondere agli attacchi dei black and hands britannici. Black and hands si riferiva al colore degli uniformi dei soldati inglesi. Fu in quel preciso momento che i soldati afferenti al partito del Sinn Fein confluirono in quello che sarebbe diventato l'IRA, l'Irish Republican Army, l'esercito repubblicano irlandese. Nel 1920, nel pieno degli scontri, il Parlamento di Londra emanò il Government Island Act, con cui si prevedeva la divisione dell'isola in due entità giuridiche separate, da una parte le sei contee dell'Alster e dall'altra il resto dell'isola, entrambe dotate di rispettivo Parlamento ed esecutivo, nel caso dell'Irlanda meridionale, il Dail Eiran. Alla nuova capitale irlandese, vale a dire Dublino, che aveva vissuto una grande crescita demografica negli ultimi anni dell'Ottocento, si aggiunse una nuova capitale, stavolta nell'Irlanda del Nord, Belfast. Le ostilità si conclusero formalmente nel 21, quando il primo ministro inglese David Lloyd George, insieme al leader irlandese Michael Collins, decretò la nascita dello stato libero d'Irlanda. Il problema di fondo era che quello stato era ancora troppo poco libero, nonostante il nome. L'Irlanda continuava infatti a essere un dominion britannico in tutta una serie di clausole che vincolavano l'isola alla corona britannica in settori determinanti come la politica estera e l'economia. Come risultato, l'Ira si arrabbiò. E quando l'Ira si arrabbia, arrivano i problemi. Quando gli inglesi confermarono la divisione dell'Irlanda in due parti, di cui una, quella del Nord, esclusa dallo stato libero del Sud, i militanti dell'Ira insorsero contro il governo irlandese che era favorevole a quella disposizione. Per romanzare la cosa, la vicenda andò più o meno così. L'accordo creò una frattura insanabile all'interno dello stesso fronte nazionalista irlandese. Questo originò una nuova guerra, stavolta civile, nella quale a prevalere sarebbero stati nel 1923 i nazionalisti favorevoli alle condizioni del trattato di separazione. Con poco più di un milione di abitanti, le sei contè a maggioranza protestante che componevano l'Irlanda del Nord, vale a dire Antrim, Dawn, Thurmanagh, Tyrone, Derry e Hermag, rimasero così ancora più legate alla politica di Re Giorgio V. Confermando l'attaccamento alla corona inglese, nel 1925 i cittadini dell'Alster, chiamati a esprimersi con un referendum se aderire o meno al nuovo stato libero del Sud, decisero per il mantenimento dell'unione con Londra. A rasserenare gli animi dell'Alster non contribuì poi alla politica del leader del partito unionista, James Craig, che sviluppò una strategia sempre più discriminatoria nei confronti della minoranza cattolica, che mai aveva nascosto il desiderio di volersi unire al neonato stato libero. Craig introdusse e sviluppò poderose limitazioni ai diritti fondamentali dei nord irlandesi, disposizioni che sarebbero rimaste in vigore fino al 1974, a partire da arresti e perquisizioni senza mandato, come anche restrizioni alla libera circolazione e di espressione dei cittadini, tutte funzionali a limitare i margini di operatività dei cattolici, nel timore che Londra potesse decidere di realizzare ugualmente l'unificazione dell'Alster con lo stato libero. Complice nel fomentare le ingiustizie sociali fu anche poi il modello elettorale cosiddetto del gerrymandering, che in pratica, mediante una calcolata revisione dei collegi, garantiva sempre ai protestanti la maggioranza in seno ai consigli cittadini. Gli imprenditori nord irlandesi appoggiarono questa manipolazione politica, ripagati anche in modo piuttosto mertoso, con grandi agevolazioni da parte del governo di Belfast. Dal canto suo Londra sapeva benissimo quello che stava succedendo dall'altra parte del canale di San Giorgio, eppure per contrastare le discriminazioni il Parlamento a Westminster non fece praticamente nulla, chiaramente perché interessato a mantenere inalterata la situazione. Con il passare dei decenni, prima nel 1937 con l'approvazione della nuova Costituzione sovrana irlandese e poi nel 1948 con l'approvazione del Republic of Ireland Act che avrebbe sancito la forma repubblicana dell'isola e la sua uscita dal Commonwealth britannico, la situazione rimase invariata. La Nuova Irlanda, adesso a tutti gli effetti politicamente ed economicamente indipendente, non comprendeva comunque ancora l'Alster, che era rimasto in mano al Regno Unito. E qui è importante fare una precisazione. Questo territorio, pur essendo a maggioranza protestante, vedeva quel 10-15% di cattolici al suo interno come una forza disgregante, una minaccia per la solidità dell'Unione con la Gran Bretagna, una minaccia che voleva spingere l'Alster verso Dublino. Tutto questo durò senza grandi scontri, in forma latente, fino agli anni Sessanta. Fu nell'era O'Neill, cioè dal nome del primo ministro nord-irlandese, a cavallo tra il 1963 e il 1969, che le cose cominciarono a prendere una piega drammatica. In quell'anno nacque infatti l'Alster Volunteer Force, corpo paramilitare della fazione unionista protestante che di lì a poco si sarebbe macchiato di crimini efferati contro la cittadinanza cattolica, con l'obiettivo di contrastare qualsiasi movimento che ne rivendicava parità dei diritti. Nell'agosto del 69, con l'appoggio della polizia locale, interi quartieri cattolici di Belfast vennero attaccati dai protestanti. I cattolici, per difendersi, diedero vita a loro volta ad una forza paramilitare che riprese il nome da quell'Ira che agli inizi del secolo si era abbattuta per l'indipendenza degli inglesi. Nata come protesta contro l'imperialismo britannico, l'Ira in un primo momento si preoccupò soltanto di difendere i cittadini cattolici da incursioni e attacchi. Tutto questo mentre il governo britannico si affrettava ad inviare nella regione le parti militari per tenere salda la presa in un territorio che rischiava di sfuggirgli di mano. L'Irlanda del Nord ha da sempre avuto una grande importanza strategica per la corona inglese, non tanto per una questione di prestigio, quanto per controllo territoriale delle acque a ovest dell'Atlantico e anche per una maggiore sicurezza dei suoi confini interni. E così, nei primi anni 70, Belfast si tramutò nella città più militarizzata d'Europa, teatro di scontri alla pari di altre città dilaniate dalla guerra civile come Beirut, Tripoli o Damasco. Gli abusi e le violenze dell'esercito britannico sulla popolazione civile nord-irlandese culminarono il 30 gennaio 1972, nella cittadina di Derry, nella tristemente nota Domenica di Sangue, il Bloody Sunday, quando un gruppo di paracadutisti britannici sparò sui dimostranti cattolici, provocando più di 14 morti e feriti. Questo fatto efferato e gravissimo avrebbe scatenato le reazioni della frangia più estremista dei cattolici, aumentandone popolarità e seguito fino a un numero stimato di 10.000 seguaci, che finirono e confluirono nell'ala denominata Provisional Era, che nel tentativo di staccarsi dal Regno Unito per realizzare un'unica Grande Irlanda, avrebbe spinto il paese in un vero e proprio conflitto civile, stavolta il secondo del secolo. Le misure straordinarie adottate dal governo unionista nel 1970, tra le quali l'internamento senza processo dei presunti terroristi, non fecero altro che esasperare gli animi, aumentando il sostegno dei cattolici all'Ira e rendendo vane tutte le trattative che si andarono ad intavolare per procedere a una risoluzione pacifica. Gli attentati dell'Ira, organizzati negli anni a venire dalla mente del gruppo, Jerry Adams, colpirono diverse città britanniche, sia in Irlanda che in Gran Bretagna, gettando nel terrore la popolazione civile. Si trattava perlopiù di attentati dinami tardi, organizzati in pub o altri luoghi affollati che costarono la vita a molti civili innocenti. Le vittime del conflitto nord-irlandese, eufemisticamente ribattezzato The Troubles, cioè i disordini, sono state stimate intorno alle 3500 e considerato che siamo in Europa occidentale non furono affatto poche. Tra gli attacchi più eclatanti e famosi dei Troubles vi furono gli ordigni piazzati dall'Ira nell'agosto 1979 sull'imbarcazione di Lord Louis Mountbatten, ultimo vicere dell'India e zio del duca Filippo di Edimburgo, come anche quelli installati in un hotel di Brighton nel sud dell'Inghilterra nel 1984 durante uno dei congressi del Partito Conservatore e che, oltre a provocare otto morti, mancò di poco il primo ministro in carica Margaret Thatcher. E attenzione, non dobbiamo pensare che attentati e omicidi fossero un'esclusiva dell'Ira. Anche la reazione del governo inglese e nord-irlandese unionista fu molto dura, perché basti pensare a divieti come il Broadcasting Ban, che impedivano la messa in onda di trasmissioni radio-televisive e che non fossero di provenienza unionista o britannica. Pensiamo anche ai tribunali monocratici, per giudicare sommariamente chiunque fosse sospettato di reati di terrorismo al punto tale da aprire successivamente tutta una serie di inchieste sull'effettiva giustizia messa in campo, ma pensiamo anche alle torture, ai danni dei detenuti in attesa di giudizio o anche di quelli internati direttamente senza un processo regolare. Tutti questi furono fatti che provocarono la reazione di Amnesty International per la violazione dei diritti umani. Un'iniziativa passata alla storia furono i numerosissimi scioperi della fame avviati dai detenuti, per lo più repubblicani, quindi pro-Irlanda, nelle carceri di Belfast. Esemplare fu il caso di Bobby Sands, eletto deputato a Westminster che, seguendo l'esempio di Terence McSweeney, 40 anni prima, si sarebbe lasciato morire di fame nel 1981. I suoi funerali avrebbero visto la partecipazione di più di centomila persone, che al grido di Chokar là, verrà il nostro giorno, fece di lui un eroe della causa irlandese. «Io sono un prigioniero politico», scrisse Sands nel suo diario. «Sono un prigioniero politico perché sono l'effetto di una guerra perenne. Una guerra che il popolo irlandese oppresso combatte contro un regime straniero, un regime schiacciante, non voluto, che rifiuta di andarsene dalla nostra terra. Io difendo il diritto divino della nazione irlandese all'indipendenza sovrana e credo in essa, così come credo nel diritto di ogni uomo e donna irlandese a difendere questo diritto con la rivoluzione armata». Questa è la ragione per cui sono carcerato, denudato, torturato. In tutti quegli anni la lunga scia di sangue non produsse alcun risultato concreto, né per la causa indipendentista che voleva anzitutto il ritiro dei britannici dall'isola e che invece si ritrovò sempre più depauperata dai suoi militanti per via delle centinaia di arresti, né per gli stessi governi conservatori, che si erano dati a una guerra senza quartiere contro l'Ira, la quale nel frattempo si era organizzata creando un manipolo di uomini scelti, gli sconosciuti, con il compito di eliminare e seppellire nelle campagne circostanti qualsiasi individuo fosse sospettato di tradire il gruppo con i servizi segreti britannici. Il SAS britannico utilizzò qualsiasi mezzo per scovare rifugi e membri dell'Ira. L'esercito di Sua Maestà arrivò persino a imbastire un finto servizio di lavanderia porta a porta, nome in codice Operazione Foursquare Laundry. I servizi segreti raccoglievano i vestiti con un camioncino, li lavavano e poi li riconsegnavano. Quello che li differenziava però da una normale lavanderia era che i vestiti venivano tutti sottoposti a test per accertare la presenza di residui di polvere da sparo sui tessuti. E poi ci fu qualche genio della 14 Intelligence Company che aprì a Belfast un salone massaggi per captare informazioni dalle conversazioni dei clienti stesi sul lettino. Genialità pura. In sostanza, la situazione a Belfast era quella di uno stallo alla messicana, potenzialmente e infinito dove tutti, polizia e ira, agivano di nascosto. Alcuni leader dell'ira e del suo braccio politico, il Sinn Fein, iniziarono a cercare una via d'uscita. Questi uomini avevano iniziato la loro carriera rivoluzionaria nelle strade di Derry e di Belfast nel 1968, ma negli anni 90, ormai quasi sessantenni e senza più nulla da dimostrare, scelsero la via delle trattative e anche in previsione del futuro. Un futuro dove i giovani, falcidiati dalla disoccupazione e dalle incertezze delle tensioni, sembravano non avere più speranza. Tuttavia molti membri dell'ira sostenevano che se l'ira non poteva vincere la lotta armata non poteva neanche perderla. In tal modo, dicevano loro, la vittoria sarebbe andata all'attore più influente a livello internazionale, cioè la corona britannica. A questo bisognava aggiungere il fatto che diversi leader e membri dell'ira, tra cui Rose Dugdale e Eddie Gallagher stavano facendo l'autio affari con la contraffazione e altre forme di crimine organizzato, ma soprattutto con il contrabbando di quadri. Famoso fu ad esempio il furto di opere di Goyer, Rubens e Vermeer per un totale di oltre 8 milioni di sterline. Terminare la lotta significava rinunciare a tutto ciò, e per molti era impensabile. Pur con queste difficoltà, alla fine il compromesso comunque ebbe la meglio sugli irriducibili, questo anche grazie all'arrivo di una classe politica molto più aperta al dialogo. Di valore simbolico fu poi la Downing Street Declaration, una dichiarazione sancita dallo Sinn Féin e dal governo britannico secondo la quale l'Alster si sarebbe unito alla Repubblica d'Irlanda soltanto qualora la maggioranza della sua popolazione fosse favorevole a questa mossa. Si giunse così il 10 aprile 1998 al cosiddetto Accordo del Venerdì Santo, sottoscritto a Belfast da tutte le fazioni coinvolte, britannici, irlandesi, protestanti, cattolici. Nel 2005 l'ira depose ufficialmente tre armi, consegnando gli arsenali, tutti riempiti di ordigni di provenienza libica, mentre due anni più tardi l'esercito britannico lasciava l'Alster. Ciò nonostante il processo di pace non è diventato di per sé assoluto. Lo dimostrò bene il fatto che, nel pieno delle trattative, eventi come l'attacco ai Docklands di Londra nel 1996, dopo 18 mesi di cessato il fuoco, sarebbero serviti come ammonimento per tutta la popolazione locale. Quest'oggi l'ira continua a esistere, nonostante sia ridotta a poche centinaia di membri, a causa anche del fatto che molti di questi sono stati arrestati. Poi, per carità, si è resa responsabile di alcuni attentati, fortunatamente senza vittime, come quello contro la sede dell'MI-5 di Belfast nell'ottobre 2010, ma per ora sembra ancora dormiente. Nonostante il fatto che gli accordi di pace abbiano regalato all'Alster e alla sua economia decenni di tranquillità e di sviluppo, l'Ira ancora oggi dichiara che il suo obiettivo principale resta l'indipendenza dell'Alster da Londra. A gettare dubbi e preoccupazioni oggi è la recente uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Con Brexit si è creato infatti uno squilibrio non indifferente, con da una parte l'Irlanda che è rimasta nei confini dell'Unione Europea e dall'altra l'Alster ancorata al Regno Unito e completamente al di fuori del processo di integrazione europea. Diciamocelo chiaramente, l'Irlanda del Nord non ha affatto ancora del tutti i conti con il suo passato e parlare di ira è tuttora un tabù molto importante nei discorsi pubblici. A complicare le cose c'è poi il fatto che l'Alster, al momento del referendum, ha votato in maggioranza oltre il 55% per restare nell'Unione Europea, un voto che seguiva coerentemente quello della Scozia dove il 67% dei votanti è andato a favore dei Remain. Con una Gran Bretagna sempre più in pezzi, un'Irlanda riunificata potrebbe forse essere uno scenario che le future generazioni vedranno realizzato. Fino ad allora, al momento, le discussioni sono ancora aperte, specialmente quelle che mirano a creare una zona speciale di libera circolazione delle merci e delle persone tra le due Irlande. Tuttavia, lo spettro dell'ira e delle tensioni sociali continua e continuerà ad aleggiare ancora a lungo nella Poblacht Nahehran, nella Repubblica d'Irlanda. Un grazie enorme a tutti per avermi seguito in questa cavalcata irlandese fino alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo che questo video è stato realizzato in collaborazione con CyberGhost VPN. Per l'offerta speciale di 1,95€ per tutti gli iscritti al canale, trovate qui sotto il link in descrizione dedicato. Come al solito io non posso fare altro che ringraziare tutti voi per l'ascolto. La prossima settimana torniamo con un secondo nuovo video dell'April Patreon, anche questo non sarà proprio leggero come vedrete. Inoltre vi anticipo già da ora che a maggio, problemi pandemici a parte, scenderò in Puglia e in Basilicata per fare due video reportage di Italia nascosta. Non vi anticipo nulla, meglio così, perché anche questo è roba piuttosto pesante, ma se potrò coprire le spese di viaggio potrò farlo soltanto grazie a tutti coloro che stanno supportando il canale con un abbonamento su YouTube, su Patreon o con singole donazioni e che stanno dimostrando un attaccamento e un affetto incredibile a questo progetto. vi ringrazio tantissimo, a presto, per Aspera ad Astra.